La musica per i reali fuochi d'artificio di Handel è il pezzo più imponente per organico di fiati scritto fino a quel momento. 24 oboi, 12 fagotti, controfagotto uno strumento nuovo per l'epoca, 9 trombe, 9 corni, 3 timpani. Era un evento enorme per l'epoca. Pare che alla prova generale Green Park a Londra vennero ad ascoltare 10.000 persone. Dopo questa prova generale andò a fuoco tutto e quindi la prima non ci fu. E proprio con questo organico noi abbiamo deciso di andare in tour. I'm American. You're American. I'm American. I'm originally from near Washington, D.C., so the east coast of the United States. Nessu, liberare la vita a padernalina e dormire nel tren, che stanocchè tenemos un viajecito bueno. che dice la musica abbatte la confusione delle lingue. Qui ci sono persone di lingua spagnola, di lingua italiana, di lingua inglese, francese, tedesca. Però quando leggiamo la musica leggiamo tutti quanti di questo unico grande linguaggio e riusciamo a comunicare benissimo. allora Grazie a tutti. Ragazzi che lavoro, bellissimo, bellissimo, bello, 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 da rifare. I ragazzi sono felici e siamo felici anche noi, è quello che conta. Direi che è andata molto bene, consideriamo che il primo concerto, questo repertorio, ma mi pare che abbiamo fatto molto bene, ci hanno messo più del 100% di energia e il risultato si è sentito, siamo molto contenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.